I ritiri sono la cosa giusta finché durano due o tre giorni, ma sono prolungati, io penso sino a deleteri perché comprimono la personalità di ognuno di noi. E a casa quando si va? E a casa purtroppo si tornerà quando avremo finito i grossi impegni. Queste polemiche per conto mio hanno dato un brutto colpo al calcio, nel senso che hanno disgustato parecchi spettatori, le hanno resi dubbiose sulla regolarità effettiva delle partite. E il successo l'ha modificato in meglio o in peggio? Beh, io non sono più indicato a dirlo, però se mi ha modificato, mi ha modificato in peggio. Se si guadagnasse la metà o un terzo, lei lo farebbe ancora il calciatore? Eh sì. Se non si guadagnasse niente? Lo farei ugualmente perché mi diverte moltissimo.